Ragazzi partiti, siamo sulla 1, 16.33, c'è anche super Dani, saluta Dani, ciao e stiamo andando a raggiungere il fole a Bagnoreggio, ciao Sare di sosta l'Ubriano, Tarallo, che vino è? Vabbè, un orvieto classico Ragazzi abbiamo preso un chilo di broccoletti in quattro tipici del posto e ce li spariamo qua su un padellone qua fuori E ora abbiamo tirato fuori l'orvieto, siamo alla terza Canù, due sono pochi, tre sono troppi però abbiamo aperto la terza, guarda come è bella ghiacciata A sto fumo viene da fornelletto che sto spianando i broccoletti Bella regà Siamo nel giardino del poeta 14.36, domenica 14 novembre, andiamo via da Lubriano, ci incamminiamo verso Roma Ciao 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 Grazie a tutti.